Bene, eccoci qui, ciao giovani, oggi parliamo di Red, effettivamente sono mancata un po' da questi schermi, adesso ritorniamo a bomba, anche perché è un periodo ricchissimo, arriva lì Cori Spizza, arriva anche Spencer che avevo già visto a Venezia e non vedo l'ora di parlarvene e riparlarvene, però cominciamo, no? In maniera più soft, ritorniamo su questi schermi dopo l'uomo pipistrello con Red, che è il venticinquesimo lungometraggio della Pixar, che come ben sapete è arrivato nei giorni scorsi direttamente su Disney+. Ormai il Disney, insomma, utilizza i film Pixar perché non è il primo film Pixar da quando c'è la pandemia che è uscito su Disney+, però gli altri film Disney invece arrivano direttamente sul grande schermo, ormai dichiarato quasi apertamente dalla Disney che utilizza la Pixar, visto che Pixar è sinonimo di qualità, questo senza ombra di dubbio, la utilizza più che altro per fare abbonati nella Disney a tutto il suo schema di serie, film, che arrivano ogni tot quando dovrebbero scadere gli abbonamenti, in modo tale da spingere le persone a riabbonarsi. It's Marketing Baby, nulla di nuovo, però dispiace, devo essere sincera, dispiace. Fermo restando che il film è estremamente godibile anche a casa, però ci sono delle sequenze estremamente citazionistiche, vi dico solo Godzilla fra le tante, ma non è solo quello che probabilmente in sala avrebbero avuto un risalto assolutamente maggiore. Comunque ciao, io sono Gabriella, grazie per essere passata da qui, spero che il video ti piaccia, in questo caso, pollicioni in su, se ti va, iscriviti al canale e attiva la campanella. Qui sotto in descrizione trovi tutti i link utili per trovarmi un po' in giro per il web. Soprattutto in questo Red si parla di un film della Pixar minore. Cosa vuol dire minore? Onestamente non sono così tanto d'accordo, Anzi, dal mio punto di vista, Red si insinua all'interno di quello che è un nuovo panorama della Pixar, portato, che sta portando avanti negli ultimi anni, già cominciato un pochino con Onward, l'abbiamo visto anche con Luca alla fine. Questo Red è l'ennesima conferma dove non più si utilizzano archetipi fantastici, ma si cerca di puntare in maniera particolare alla realtà, soprattutto una realtà estremamente attuale. Adesso la Pixar, come dicevo prima, è sempre stata sinonimo di qualità e se vogliamo, da un punto di vista dei temi più maturi, è sicuramente quella che li ha portati molto più avanti. Molto più di Disney, che magari in passato aveva un modo di fare cinema attraverso le favole, attraverso le fiabe, estremamente, come posso dire, cercava di rispecchiare attraverso quello dell'archetipo delle favole, la realtà, anche nel gusto cinematografico. C'era un gusto cinematografico molto più ricercato, Biancaneve che strizza l'occhio all'espressionismo tedesco, che quasi orrorificano la scena all'interno del bosco di Biancaneve. Pensateci un attimo, a me, quando guardo Evil Dead di Raimi, che c'è la scena della violenza, ditemi se non rivedete Biancaneve in quella scena. Il bosco che le strappano i vestiti, le ombre allungate, gli occhi nell'oscurità, estremo espressionismo tedesco. Ma questo lo vediamo anche in tanti altri film d'animazione, vecchia animazione, più che altro della Disney. Spesso faccio l'esempio di Frollo nel Gobbo di Notre Dame, la scena al caminetto così sensuale, conturbante, non certo proprio per un pubblico di infanti. E anche la grande qualità registica nella Bella e la Bestia, con l'inizio in carrellata, e poi tutta la storia raccontata con le vetrate all'inizio. Anche lì l'horror, il gotico, ritornano in maniera molto prepotente, i gargoyle quasi della casa, del castello di Bestia, o anche, mi viene in mente, Malefica, che diventa Drago nella Bella Addormentata, un po' un richiamo, quel verde acido, un pochino Lovecraftiano. Quindi, insomma, non è che la Disney sia stata proprio così soft. Ovviamente è come noi vogliamo interpretare le cose, come le guardiamo le cose. A distanza di anni ci rendiamo conto di quello che viene effettivamente inserito all'interno di questo mondo. La Pixar, invece, ha sempre avuto un'impronta, per così dire, più adulta. Infatti, quando sento parlare di film minore con Red, o ha negli ultimi anni la Pixar, non è più la Pixar di una volta, non sono d'accordo. Secondo me è una lettura estremamente superficiale di quello che è il lavoro in continuità che sta portando avanti la Pixar e di quello che poi è anche il suo sviluppo. I tempi cambiano, il target cambia, le persone crescono, sono diversi i bambini, i ragazzini, e anche il modo di affrontare alcune tematiche e di rappresentare i suoi protagonisti, i suoi personaggi, è estremamente fondamentale, estremamente importante, proprio perché la Pixar è quella che più ha puntato l'occhio su questa importanza, su questi temi. Quindi Red, secondo me, fa esattamente quello che la Pixar ha sempre fatto, e lo fa ovviamente in una maniera diversa, con una storia diversa, con un argomento diverso, già trattato sicuramente come quello dell'adolescenza, però mai con il focus sulla pubertà, e quindi ovviamente con un modo di raccontare le cose in maniera diversa, anche perché, parliamoci chiaro, giovani, i temi, le storie, sempre quelle sono dalla mitologia greca, non cambia niente. Cos'è che cambia realmente? Il modo di raccontarle. È vero, il mondo si evolve, però se ci pensate un po' gli archetipi, i focus, i troppo, i topos, sono quelli. Cambia ovviamente, cambiano le persone, cambia il modo di raccontare, è questo che fa la differenza. L'adolescenza è uno di quei focus, uno di quei temi che spesso e volentieri viene affrontato nell'animazione, ma non solo, voglio dire, c'è un genere intero dedicato, no? I team movie, il team drama, il young adult all'interno della letteratura, quindi spesso vengono affrontate tematiche legate al mondo dell'adolescenza. Per effettivamente la pubertà da un film Pixar visto in questo modo, no, non l'avevamo assolutamente mai visto. Perciò tanto di cappello a Domishy, prima regista donna in casa Pixar, ma soprattutto nuova leva insieme anche a Luca Casarosa, che se vogliamo, no, stanno diventando un po' i volti dopo quelli che sono stati, Pet Doctor, insomma, i registi più iconici della Pixar, effettivamente sta andando avanti una nuova generazione di cineasti. Ed è anche giusto, quindi, in questo caso, che le storie evolvano insieme ai loro registi, agli autori, insomma, di queste storie, di questi personaggi. E ripeto, se ci pensate, l'avevamo visto in Onward, l'abbiamo visto in Luca, il tema della crescita, delle fasi di crescita, è un tema abbastanza ricorrente. E se vogliamo, anche il discorso della famiglia, la famiglia allargata, non solo la famiglia di sangue e le aspettative della famiglia è qualcosa che in casa Pixar e in casa Disney si sta portando avanti. Recentemente era stato fatto con Encanto, con le aspettative. Secondo me, qui in Red viene fatto ancora, ancora meglio. Viene fatto in maniera approfondita e non in modo superficiale, come forse, effettivamente, di tanto in tanto, ha peccato Encanto. Fermo, restando che a me Encanto non è affatto dispiaciuto come film. Ha sicuramente dei difetti, però la tematica di fondo è una tematica estremamente attuale, una tematica un evergreen, appunto, no, riuscire a rispettare quelle che sono le visioni dei propri genitori, dei propri parenti, convivere con l'ombra di un cognome, di una generazione, portare rispetto, rispettare quelle che sono le aspettative che gli altri hanno su di noi, è qualcosa che ci riguarda da vicino, riguarda soprattutto questa generazione e, come vediamo, appunto, la generazione è la stessa regista, poi, di Red. Il film, ho sentito dire che il film è un film per ragazzine, un film per i giovani di adesso, un film che non parla a quella che è la generazione dei trentenni o dei quarantenni. Nulla di più falso. Io non so come si vedono, come a volte le persone vedono i film. Questo Red viene ambientato, è ambientato nel 2002. Partiamo da questo presupposto. E la nostra protagonista, May, ha 13 anni. Ragazzi, un adolescente che nel 2002 ha 13 anni, ma quando volete che sia nata? È nata alla fine degli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta. Quindi, come si fa a dire che Red non sia un film che parla ai trentenni quando esattamente sono quelle le cose, è proprio l'adolescenza di chi è nato alla fine degli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta. E questi riferimenti culturali, riferimenti nerd, riferimenti sociali, alla musica, ci sono tutti all'interno di questo film. Proprio perché la regista che parla della sua adolescenza, che è stata un'adolescenza abbastanza condivisa, insomma, ci sono dei punti salienti nei quali bene o male possiamo ritrovarci tutti. Un po' come Casarosa e Luca parlava della sua infanzia. Insomma, è qualcosa che tutto torna, se ben ci pensate. E un'altra critica, cioè io voglio partire dalle critiche, perché secondo me sono quelli che ci danno modo di un po' sviscerare questo film, e un'altra critica, che uno degli aspetti più coraggiosi e particolari di Red è quella che il panda rosso rappresenta le mestruazioni e quindi automaticamente una gran fetta di target non può rappresentarsi all'interno della protagonista. Fermo restando che per quanto tempo ci siamo rappresentati in personaggi che magari, no, parlo per me stessa, tante volte mi sono rappresentati in personaggi che non sono donne, cioè non devo necessariamente legarmi all'identità di genere di un personaggio per sentirmi rappresentata o per provare dell'empatia, semplicemente dell'empatia, perché mi rivedo in qualche caratteristica di tipo caratteriale, di tipo emotivo, di stampo fisico. Non lo so, quindi non posso empatizzare perché la protagonista è le mestruazioni. Ammazza. Ammazza. Ma mettiamo pure, Red parla di pubertà. Il panda rosso protagonista di Red non è l'emblema, la massima rappresentazione del ciclo mestruale, ma bensì è la rappresentazione della tempesta ormonale, della pubertà. E che vi piaccia o meno? La pubertà arriva per qualsiasi persona, al di là dei cromosomi che presenta all'interno, quindi al di là della sua identità di genere. Comunque veniamo investiti dalla pubertà in un modo o nell'altro. Nelle ragazzine, ovviamente, si manifesta il punto di non ritorno, è proprio quella delle mestruazioni, nei ragazzi si manifesta in maniera diversa. Però il film di base si concentra esattamente su quello che è il concetto della pubertà. Perciò parlare di non riesco a rappresentarmi, perché la protagonista della mestruazione è veramente una sciocchezza. Poi comunque possiamo non provare empatia per quel personaggio, possiamo non rappresentarci in quel personaggio, ma sminuire il tutto in questa frase estremamente spicciola, ripeto, è vedere film col prosciutto sugli occhi, o peggio, col cellulare davanti agli occhi, perché questa è la vera problematica di quando spesso e volentieri le pellicole arrivano on demand, nella comfort zone della nostra casetta, nel nostro divano, cominciamo a essere distratti da tutta un'altra serie di input che ci sono attorno. Ripeto, se i film minori dobbiamo definirli in base a quanto ci sentiamo meno rappresentati, il mondo diventerebbe pieno di film minori, diciamo che i film minori sono altri. Poi, indubbiamente, non è un film che né a livello tematico, né a livello artistico arriva a quelli che possono essere fasti come un Inside Out, un Up, un Coco, ok, per carità, su questo mettiamo la mano sul fuoco, ma al tempo stesso è comunque un film che affronta in una maniera originale ed estremamente anche inclusiva, definiamoli in questo modo, per nulla banale il tema della pubertà e la rappresentazione, l'inclusione, non è una mera checklist, cosa che purtroppo vediamo fare fin troppo spesso, ma i protagonisti, i personaggi che vengono rappresentati, i grandi e i piccoli, che vengono rappresentati all'interno del cartone, all'interno del film di animazione della Pixar, sono perfettamente distribuiti, c'è questa tendenza ottima, incredibile, nel cercare di normalizzare la diversità delle persone, non mettendo il focus, guarda quella persona è diversa, guarda quanto siamo bravi, vi è visto, parliamo di inclusività, no, parliamo di persone, il focus non è mai su la persona e di quella cultura, la persona a quell'identità, la persona a quell'orientamento, no, ed è un passo importante, certo, è ovvio che voglio vedere molto più coraggio, questo è un passo, non è completamente la scalata, è un passo, è ovvio che dalla Pixar, soprattutto dalla Disney, considerando tutte le problematiche che ci sono attualmente con la Disney, proprio per quanto riguarda la questione dei diritti umani, soprattutto per la comunità LGBTQIA+, vogliamo una presa di posizione molto forte, la vuole la stessa Pixar, perché comunque le idee al vaglio passano sempre dalla Disney, prima che i film possano essere realizzati, e come la lettera aperta dei dipendenti della Pixar nei confronti della Disney ha ben sottolineato, sono un po' stanchini di vedere le proprie storie e venire maciullate, solo perché Disney, sì, ne voglio parlare, ma non too much, il focus non completamente su questa cosa, che dipende sempre come lo fai, dipende sempre come lo tratti, quindi anche da questo punto di vista, secondo me, Red ci dà l'occasione di rappresentarci veramente in toto come persone, e non come etichette, come categorie, come sottogeneri, perché veramente è una cosa che incomincia davvero davvero a dar fastidio, poi cominciamo a orlare al politicamente corretto, poi cominciamo a orlare al politicamente scorretto, e poi ci perdiamo praticamente in un marasma di fregnacce, senza capire qual è il succo reale della questione, secondo me, da questo punto di vista il film è straordinario, poi vogliamo parlare da un punto di vista metaforico delle mestruazioni? Facciamolo, con la rappresentazione del mostro, o meglio della pubertà, anche da questo punto di vista, e vi consiglio una super lettura, è il mostruoso femminile, perché il mostruoso femminile è un saggio, che analizza lo sviluppo proprio dei personaggi femminili, e anche di alcune caratteristiche, caratteristiche che vengono affibbiate alle donne, tra il folklore, nella vita reale, nella letteratura, e nel cinema, proprio attraverso un simbolismo orrorifico, e non solo. Mei, la nostra protagonista, ha su di sé questo dono, barra maledizione, che un po' lega tutte le donne della sua famiglia, ovvero, arrivata a un momento cruciale della propria esistenza, un panda rosso, non riescono più a gestire emotivamente tutta una serie di cose, pubertà, e quindi si trasformano in panda rosso, e devono cercare di convivere con questo panda, fino a quando, con un esorcismo, un rituale, non lo rinchiudono all'interno di un medaglione, di un oggetto, insomma, per intrappolare questo spirito. Questa cosa, a maggior ragione, mi fa ricordare un esempio che viene fatto, il mostruoso femminile, che è legato proprio all'esorcista. Cosa succede a Regan, quando viene posseduta da Patsuzzo, e in generale, nel folclore, ma non solo nel folclore, in tutti quelli che sono i casi di possessione demoniaca, che guarda caso, alcuni dei più eclantanti, per esempio Emily Rose, che è anche quello che tratturano storia vera, sono proprio di ragazze, e i primi esempi, i primi momenti di possessione, arrivano proprio nel momento di quella fase, che separa dall'infanzia all'adolescenza, diventare donne, quindi la pubertà, la prima mestruazione, come se improvvisamente, la purezza, venisse macchiata dal sangue, e un demone, cominciasse a prendere le sembianze, di quella persona, non a caso, nell'esorcista, quando si tratta di Regan, ci sono tutta una serie di riferimenti, estremamente profani, estremamente sessualizzati, che passano, dal gesto, alla masturbazione, che passano alla mestruazione, ed è esattamente quello, adesso è ovvio che il red, tutto ciò viene contenuto, però se ci pensate, la donna, la bambina, che diventa donna, in realtà è un po' come un demone, perché cambia completamente il suo aspetto, anche agli occhi degli altri, quindi non solo io, mi sento cambiare, mi vedo cambiare, da un punto di vista fisico, da un punto di vista emotivo, e come guardo gli altri, fino al giorno prima, pettinavo le bambole, o nel mio caso le decapitavo, e il giorno dopo, oh mio Dio, ormoni, persone, mi piace questo, mi piace quell'altra, mi piace così, mi piace con la, stessa cosa, anche nelle persone, lo sguardo degli altri, su di noi, cambia, arriva quel momento, di sessualizzazione, che negli adolescenti, è estremamente forte, perché sono tempestati, da ormoni, da testosterone, che non sanno ovviamente, tenere a bada, e quindi automaticamente, si sprigiona questo mostro, tendenzialmente, anche in maniera, diciamo così, stereotipata, si tende a sottolineare, questa caratteristica, molto di più, nel sesso femminile, perché le donne, sono drammatiche, perché le donne, sono emotive, perché le donne, sono isteriche, perché le donne, è così, perché le donne gola, che assolutamente, non va bene, perché sono aspetti, che si possono ritrovare, anche in altre persone, non solo, nel sesso femminile, però, c'è sempre questa rappresentazione, del mostruoso, quando non sei una brava signorina, automaticamente, sei una stregaccia, sei una strega, nel senso più dispreggiativo, del termine strega, ritorna quindi, questa concezione, del mostro, del mostruoso, dell'orrorifico, sei posseduta, e hai un demon in teno, il demon in corpo, il diavolo in corpo, secondo me, questa cosa, all'interno di Red, viene ovviamente, semplificata, ovviamente, smussata, in tutti quelli, che sono gli angoli problematici, però viene resa molto, molto bene, viene resa tanto nel personaggio di May, quanto nel personaggio della mamma, ma anche in tutti gli altri personaggi, che poi alla fine ci sono all'interno di questo film, e questo dipende anche, da quelli che sono poi i rapporti conflittuali, con i quali dobbiamo confrontarci, durante quel periodo, tuttora, spesso, si è succubi, a volte, dei genitori, dell'aspettativa, non l'altro grande tema, dei genitori che appunto, ripeto, definire Red, un film per ragazzine, è quanto mai sciocco, visto che, l'aspettativa, da parte di un genitore, non ha assolutamente sesso, anzi, e quindi, ci si aspetta sempre, che al massimo, le figlie femmine, facciano in un modo, i figli maschi, facciano in un altro, ragionando ovviamente, per questo binarismo, no, molto standardizzato, ma a parte anche questo, i rapporti cambiano, cambiano i rapporti con gli amici, cambiano i rapporti con le persone, come dicevo, improvvisamente, no, ci svegliamo una mattina, e quello che per noi, era solo un ragazzo, era solo una ragazza, improvvisamente, diventa oggetto di desiderio, improvvisamente, ci si ritrova a fantasticarci sopra, il nostro corpo cambia, ci dà dei segnali, che sono difficili da decifrare, oppure, non lo sappiamo, quello che veramente ci piace, o ci sentiamo in difetto, rispetto agli altri, perché gli altri, sono stati più veloci, e noi siamo più lenti, o viceversa, tutta questa serie di caratteristiche, che vanno a influire, non solo con il rapporto con noi stessi, ma anche con il rapporto con gli altri, e soprattutto, con il rapporto con i genitori, qui abbiamo, come protagonista, quella che sembra essere, la perfezione, no, la perfetta figlia modello, ma che in realtà, nasconde alla mamma, un aspetto molto più, ribelle, molto più rock and roll, definiamolo in questo modo, con ovviamente, il voler andare al concerto, il comportarsi in un certo modo, con le amiche, essere ancora più spiritosa, avere degli obiettivi di vita, diversi dalla madre, e ovviamente, questa mancanza di comunicazione, voler a tutti i costi, no, essere di più, essere degna dell'amore, del rispetto alla propria madre, del rispetto al proprio genitore, non fa altro che annullarci, questo annullamento, 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 va a creare una crepa estrema, che nel caso, ovviamente, di Red, si estremizza, anche in maniera abbastanza particolare, perché poi ci rendiamo conto, che alcune crepe, nel momento in cui, non vengono sanificate, no, nel momento in cui, non vengono riempite, nel momento giusto, ce le portiamo avanti, per sempre, e il rapporto, infatti, che poi c'è, tra figlia, mamma e nonna, diventa emblematico, di tutto questo, ma vi ripeto, poteva anche essere, figlio, papà e nonno, sarebbe stata, esattamente, la stessa identica cosa, perché, la rappresentazione, non passa, da un ciclo mestruale, ma bensì, che comunque, ripeto, è qualcosa di fondamentale, perché, viviamo sempre una società, dove, non è buona cosa, far passare le pubblicità, degli assorbenti, ad un certo orario, perché le persone si scandalizzano, e quando facciamo vedere, che l'assorbente, è super, iper, mega, extra assorbente, il liquido, non è mai rosso, ma di tutti i colori, dell'arcobaleno, meno che il rosso, perché non deve esserci, riferimento, al sangue mestruale, quindi, vedere un cartone animato, che comunque, fa vedere, pacchi di, assorbenti, con le ali, senza ali, tampax, non tampax, è comunque qualcosa di importante, però, non è solo quello, non passa, semplicemente, da quello, ma soprattutto, la rappresentazione, non viene rappresentata, da quello, ma, rappresenta, quello che il panda, alla fine, appunto, è la povertà, e sono tutte, quelle problematiche, legate alla povertà, che passano, da una serie di cose, che sono quelle, che alla fine, vi ho appena detto, nonché anche, ovviamente, l'unione, con il senso di comunità, il senso di gruppo, che all'interno del film, si respira tantissimo, ecco, perché prima, vi dicevo, che è molto interessante, come viene rappresentata, l'inclusione, perché ci troviamo, a Toronto, e ci sono un sacco, di famiglie, multi etniche, la nostra protagonista, è asiatica, ma le amiche, per esempio, no, e, non è quello il focus, però, non è quello, non è, non dobbiamo sottolineare, che abbiamo il personaggio, razzializzato, abbiamo il personaggio X, abbiamo il personaggio Y, e tutto estremamente, normalizzato, è così, che passa l'inclusione, alla persona, attraverso la normalizzazione, di questo, ecco, perché Red, non può essere, un film minore, perché all'interno, di un'ora e mezza, di un film, estremamente leggero, e divertente, passano, tutti questi argomenti, i quali, si possono, estremamente, sviscerare, possono essere, ancora analizzati, c'è una sovrascrittura, di tematica, all'interno di questo film, che, dire solo, il film, un film minore, secondo me, è proprio, essersi fermati, unicamente, alla superficie, e non aver, non aver voluto, anche un po', per partito preso, probabilmente, essere andati, un po' più a fondo, ripeto, ci sono stati, ci sono film, della Pixar, superiori, da un punto di vista, tecnico, o, dalla, dal modo più poetico, di trattare, alcuni argomenti, questo, però, non fa sì, che Red, sia un film minore, anzi, tutt'altro, comunque, perché, abbiamo visto, l'abbiamo appena visto, ci sono le cose da dire, soprattutto, un film che riesce, a parlare a tutti quanti, altro tema, prima di chiudere, che già mi sto dilungando, come al solito mio, è un film per ragazzine, è un film per ragazzine, è un film per, quando è che la Pixar, farà un film per adulti, ma che film della Pixar, avete visto, esattamente, a parte Cars, che sicuramente Cars, è forse il film della Pixar, più rivolto, a un target infantile, ma che film della Pixar, avete visto, fino a questo momento, cioè, dire che, quando è che la Pixar, avrà il coraggio, di fare veramente, un film per adulti, ma se la caratteristica, principale della Pixar, è proprio quella, di raccontare storie, che sanno parlare, a tutti quanti, dando, un'interpretazione, a chi è più giovane, un'interpretazione, a chi è più grande, e questo film, in particolar modo, fa divertire, chi è più piccolo, ma fa riflettere, chi è più grande, fa empatizzare, chi è più grande, proprio perché, rivede quella stessa, io stessa, in quegli anni, nel 2002, avevo 11 anni, stavo per attraversare, quel tipo di periodo, e quanti film, della Pixar, hanno fatto, esattamente, la stessa identica, pensiamo a Coco, per esempio, pensiamo a un Soul, pensiamo a un Inside Out, cioè, come si fa, pensiamo a un Toy Story, siamo cresciuti, con Toy Story, letteralmente, quando abbiamo visto, per la prima volta, Toy Story, quando al terzo film, Andy, andava per l'università, andava all'università, e noi stessi, magari, in quel momento, stavamo andando all'università, o eravamo appena andati, da un anno, due anni, e avevamo, e avevamo vissuto, proprio quel bisogno, di crescita, al tempo stesso, quell'effetto nostalgia, del non volersi staccare, da quella parte di vita, perché infanzia e adolescenza, alla fine, sono più o meno collegate, comunque, ma quando, arriva all'età adulta, capisci, che il mondo dei giochi, è finito, che la comfort zone, è finita, e, devi necessariamente, cominciare a vivere, è un salto, no, è il punto di non ritorno, letteralmente, se l'adolescenza, è il momento di passaggio, ed è forse, l'aspetto più difficile, ovviamente, della nostra esistenza, perché, non è un caso, se abbiamo un mostruoso, panda rosso, o se l'adolescenza, la pubertà, viene rappresentata, generalmente, dai mostri, è una brutta bestia, l'adolescenza, per qualcuno di più, per qualcun altro di meno, ma è una brutta bestia, l'adolescenza, non è facile, né per chi la vive, né per chi la deve vivere, dagli altri, comunque, voglio dire, essere genitori, non è un lavoro semplice, se io penso a quando io ero adolescente, non so, i miei genitori, come abbiano fatto, non impazzire completamente del tutto, perché devo dire che, se c'è una cosa, che non mi sono fatta mancare, nell'adolescenza, è tutto quel cliché, di crisi, alle ragazze interrotte, che proprio, manco ve lo sto a di, insomma, ci vuole abbastanza, fegato, per avere, no, confrontarsi con un adolescente, e tra l'altro, io stessa, non solo ho vissuto la mia, ho vissuto quella di mia sorella, io ho vissuto quella di mio fratello, e posso dire, che la pubertà, in un modo o nell'altro, è uguale per tutti, ognuno ha dei problemi diversi, ma il succo, è sempre fondamentalmente quello, quindi, dire che la Pixar, non fa, film per adulti, quando è che farà un film, veramente per adulti, anche questa, è una sciocchezza, e ho come l'impressione, l'ho appena, l'ho detto poco fa, e lo ripeto, che purtroppo, abituarsi troppo, alla visione on demand, non fa altro, che impigrire, un po' l'occhio, dello spettatore, è anche vero, che noi siamo, estremamente bombardati, da piattaforme, completamente saturi, dai prodotti, ogni giorno, ce n'è uno nuovo, quindi, è anche difficile, poi, senza contare il fatto, che c'è chi continua a lavorare a casa, o che la sera si torna stanchi, insomma, ci sono tutta una serie di input, in casa nostra, il cellulare, la lavastoviglie, e devo fare quello, e devo fare quell'altro, che, non sono facili a gestire, ma proprio per questo motivo, secondo me, l'on demand, sta un po' impigrendo, lo spettatore, quindi, quando io, sento, frasi, dove, obiettivamente, dici, ma come l'hai visto questo film, poi i film possono piacere, e non piacere, chiariamoci, non è che vi dico, ah, il film non ti è piaciuto, vuol dire che il film non l'hai visto, no, non è questo, e che, portare avanti una serie di polemiche, dove, obiettivamente, ti sto dicendo, no, guarda, che non è così, anzi, nel film, te lo dice anche abbastanza chiaramente, dal mio punto di vista, è sintomo di una visione, molto distratta, e, molto poco attenta, proprio da prosciutti, un pochino sugli occhi, della pellicola, perché, perché no, perché, tutte quelle, io, tutte le polemiche, che ho visto nei confronti di Red, le ho trovate veramente pretestuose, polemiche, che fai cadere, letteralmente, così, con uno schiocchio di dita, poi, il film può non piacere, la regia può non piacere, quando invece, secondo me, è fatta molto molto bene, l'animazione può non piacere, la regista è la stessa di Bao, io la trovo, non è, non è il mio, character design preferito, ma, secondo me, funziona molto bene, nell'insieme, in, in generale, è molto bello il lavoro, anche fatto sulla musica, voglio dire, la musica strizza, letteralmente, l'occhio, a quella che è la musica, dei primi anni 2000, con, la band, eh, protagonista, i messaggi ci sono, i remandi ci sono, quindi, però, insomma, qualcuno non piace, può non piacere, ma attaccarsi al capello, è un film per bambini, è un film per ragazzine, non mi sento rappresentato, perché la protagonista, è il ciclo, si parla di ciclo, non è un film per adulti, non so, mi sembra, una visione, una lettura, alquanto ristretta, di un film, che, secondo me, fa più che il suo lavoro, fa più che il suo dovere, è un film che diverte, in modo genuino, intrattiene, racconta, in modo diverso, una fase, universale, della vita, di un essere umano, e, riesce anche a essere, molto coraggioso, in alcune cose, in alcuni temi, in alcuni personaggi, che porta avanti, quindi, io mi aspetto, che anzi, la Pixar, continui tantissimo, su questa strada, e insista, ancora, e ancora, e ancora di più. Beh, adesso tocca a voi, il film vi è piaciuto, voglio proprio saperlo, vi aspetto nei commenti, e se anche il video vi è piaciuto, pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, per restare, aggiornati, vi ricordo, che in descrizione, ci sono tutti, i link utili, perché non mi trovate, solo su YouTube, ma mi trovate, anche un pochino, in giro, ogni giorno, sia in video, che scrivendo, quindi, grazie per essere stati con me, ci vediamo, ad un prossimo video, ciao!